Musica come sono? come sono? come sono? come sono? Buongiorno. Come stai? Tutti bene? Alla la marca? Alla la marca? Exacto. Non c'è problema. Grazie a questo. Ti faccio il Facebook. È più comodo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie Grazie. Grazie a tutti. C'è il video e ho cominciato. Grazie a tutti. C'è l'amiche. questa è la carta di te